ci siamo perché sono in questo video ci siamo non ci siamo ragazzi siamo arrivati a 500 iscritti io non sto spezzando di ciò io spero che ci sia una canzone che sennò sarà buttissima tipo bene trovati ragazzi sul nuovo channel e ai vostri? Mino e Mila, stiamo preparando, è vero scusami siamo qua su lo speciale dei 500 iscritti ragazzi grazie mille di tutto ci è voluto un anno ma va bene così non siamo un canale di spicco che abbiamo portato novità quindi va benissimo i nostri gameplay novità cosa c'è perché siamo simpatici è super lei dite la verità vi siete iscritti solo perché c'è Ilaria perché c'è la no 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 perché c'è la no no vabbè in cosa consiste la challenge perché come avete letto da titolo c'è una challenge e sarà e sarà la challenge post it non sono post it non sono poi vabbè che tipo ci attaccheremo lo scorcio io spero si legga bene comunque cosa facciamo scriveremo sul post it in delle categorie un nome ad esempio abbiamo scelto due categorie che sono pokemon perché è la serie che stiamo facendo in questo momento e cartoni animati o serie televisive esatto quindi in questa categoria tipo catena pokemon noi due scriviamo un pokemon ce lo piccichiamo qua bisogna indovinarlo facendo delle domande c'è un problema eh se abbiamo la telecamera davanti tu lo leggi io lo leggo vabbè giro spero non cambi niente eh spero aspettate scusate un attimo così non si vede più vabbè io spero cioè io guardo la sua ora ok guarderemo il vuoto guarderemo il vuoto è finito va bene dai iniziamo con con cosa con serie tv no pokemon è più facile più facile? non lo so ce ne sono tipo 8000 non devi essere trattivo no no vai tranquillo e tacchete ora scriviamo io uso il mio colore preferito che è l'azzurro e il blu e perché io ho l'arancione scusa? eh mi spiace vai vai no ma ci vuole del tempo ragazzi io devo pensare ok io farò vedere la telecamera il mio che sennò lo vede anche l'aria spero si veda bene perfetto e mentre scrive glielo mi sono appena fatto i capelli vai vuol dire di cosa viene fuori da questa cosa non guardo vai non guardo non guardo farlo vedere più vicino vai non mi ricordo se scrive così mi sembra di sì vai 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 fatto vai 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 fatto vai vai chiudo gli occhi chiudo gli occhi lo indovinerai subito ok allora visto che il è donna parto io allora allora dove hai non lo so vai forza no 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 partite parto io ma quante domande si può fare? quanti si finché non lo indovini ok quindi saremo tipo fino a mezzanotte così? eh sì sì mi sa che tipo sarà lungo un'ora 50 minuti per le pokemon e 20 minuti per le serie perché sappiamo più di serie dai allora è di colore verde? no no vabbè no così mi veniva il verde di colore perché non lo so perché mi è venuto così vai è un pokemon jaro? sì ecco lo sapevo cattivo è un pokemon di fuoco? no è un pokemon d'acqua? no è un pokemon volante? no non è fuoco una cosa o non è vero? ok è un fossile? no mi sa che lei ci arriva prima di me è un pokemon della prima generazione? no nel senso i primi 150 che sono ti fatti? mi sembra di no no mi sembra di no va bene lo so posso rifare la domanda? no no il mio è un pokemon della prima generazione? sì e va te l'ho fatto facile lo muoviti però è un pokemon d'acqua? sì ok perfetto e non è della prima generazione? no mi sembra che è un pokemon ok vai allora è un pokemon raro della prima generazione intanto penso è un leggendario? sì voglio vedere ragazzi se ci arriva però se ci arriva però hai detto che forse non è quindi è l'apras? no perché l'apras non è nessuno no 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 vabbè vai è un pokemon psico? no acqua seconda generazione ok non ho detto seconda generazione ok vabbè scusa è vera la ragione è uno starter? no no ok va bene è di fuoco? no è un leggendario? no quindi anche chiogra è andato via io mi metto una cosa ma lo posso dire subito? vai è Mew no ha detto vedete che ragazzi non le sa perché ha detto è psico è mio è psico io ho detto di no e lei dice Mew hai ragione hai sprecato una cosa t'ho chiesto di psico perché pensavo fosse Mew non ero convinta che Mew fosse di psico vabbè ha tre evoluzioni cioè parte poi uno due no ok solo due cavolo è raga ora voi l'avrete visto di sicuro sa la prima generazione di sicuro è di erba? no non mi ricordo come si chiamano le leggendari ne conosco due ora non so se di sicuro lei non le vede le mie serie però lo uso in PokéMMO o in la Pixelmon? non credo no no la Pixelmon da di sicuro ok no in PokéMMO non mi ricordo neanche no c'ho Blastosi quindi no ok vai posso prendere il foglio del Pokédex? no uffa ci ho provato è una domanda vale eeeh spero non sia della prima generazione di sicuro non è della prima generazione ok la prima la prima evoluzione cioè quello che incontri per primo o almeno spesso possono no a che stai dicendo? non lo so nemmeno io eeeh chiedimi se è la prima o la seconda è la seconda generazione? evoluzione no è della seconda generazione o non lo sai? non lo so ok eeeh forse seconda o terza ok vabbè vabbè ti ho fatto questa domanda se non sei sicura no allora no non vale non vale questa cosa non lo so penso sia della seconda generazione o non lo sai ma anche te lo scegli non lo sai guarda che mi piace mmm ah però vedi ti piace ecco quindi vuol dire è molto carino l'ho aiutato tantissimo è molto carino no hai già fatto la sua domanda va bene dopo ti farò questa domanda è di acqua? no è molto carino a vederti appena lo vedi fai che carino io si ok perfetto e non è lo starter no di che colore no non posso dire di che colore è me lo puoi dire? si è giallo giallo è giallo ok perfetto un leggendario giallo è un gabbiano? no se no è la winkle vabbè vai non hai ancora chiesto cioè non hai ancora indovinato il il tipo il tipo sarà terra? fuoco? no nessun dei due ti ho dato un grandissimo aiuto non ne hai nessuno dei due ma nessuno dei due? no fulmine allora ehm ha la forma di un pesce? no pensavo a Sharpey del Carvano sa me? si Zapdos? si ma non è un leggendario ma come no? è un leggendario della prima generazione allora ma leggendario pensavo Zapdos lo prendi con la pallina ma lì nella Pixelmon in pokemon normale è un leggendario che lo trovi no ragazzi si possono fare queste cose oddio oddio ma io ho indovinato oddio allora aspetta aspetta io ho l'ultima possibilità allora dai è facile te l'ho anche chiesto nella pokemmo quando mi hai chiesto che pokemon no no allora no allora non mi sta rispondendo è drattini? si ma è drago non è acqua ma è drago come è? si trovano in acqua ragazzi e voi tutto questo tempo avrete detto no ma perché gli sta dicendo tutte queste cose è drago e ce l'ha tre di evoluzione e ce l'ho nella poke dragonite è l'ultima evoluzione c'è drattini dragonair e dragonite quel dragonite che c'ho io è la terza generazione di drattini no 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 perché diventa così aiutatemi non mi piace più no vabbè via ragazzi seconda voglio vedere cosa facciamo nelle serie tv via dai ho cartoni animati ho cartoni animati io voglio vedere le facce loro le facce loro che per 10 minuti hanno fatto ma perché sto dicendo questo perché? perché sto dicendo questo? eh ti volevo mandare e poi è della prima generazione è della prima ok? però ti avevo detto che non lo sapevo non era acqua la prossima volta ci scrivo lo so no ragazzi apra tieni perché? aspetta allora decidiamo serie tv o cartoni animati cartoni animati però questo è mio il tuo è lì mi è qua andiamo aspetta aspetta guardate io ho scritto la mia chiudi gli occhi amore non le leva aspetta passo faccio 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 vado 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 vai i capelli i capelli i capelli stanno così bene va io mi giro non guardo fatelo vedere spero non sia la cavolata mamma mia mi avevo detto cartoni no via io dopo questa cosa non ho più parole io non ho parole io non ho parole no ti ho messo troppo basso? eh? no no e di sicuro ragazzi questa cosa si rifarà no perché perché non è possibile oh vabbè oh comunque siamo una giro per me e l'ha detto lei pokemon quando abbiamo detto che c'è non ci faccio lei facciamo pokemon scusa la teratini si trova nell'acqua quindi nasce come pokemon d'acqua no è un pokemon drago un pokemon drago un pokemon drago della prima generazione va bene ho perso io tocca a me è una serie tv fatta da bambini cioè un racconta storie dei bambini sì sì perfetto perché? no va bene ma hai detto cartoni quindi sì ma nei cartoni c'è tipo nel cartone sono gente adulta no sono bambini sì perfetto vai è un cartone che si guarda in tv? in questo periodo storico no ok non nasce per la tv o non al cinema? no si gioca a calcio in questo cartone? no è ambientato in una scuola? sì facile ce ne è uno che è ambientato nella scuola è recente questo cartone? sì io so già così ti dico boh hai bene in mente rossana? sì indovina aspetta aspetta posso e marcia e oltre sì ragazzi sì sì cartone di merda è fatto da bambini? sì c'è un bambino e poi sono tutti animali vabbè ragazzi hai chiesto se c'erano animali? non hai chiesto se c'erano animali questo te lo posso concedere infatti ragazzi ecco perché prima ci si andava a vedere le lunghe perché io stavo pensando una cosa che non era ragazzi se questa challenge vi è piaciuta le faremo delle altre scrivetelo qua sotto e ci vediamo in un prossimo video da mine e mia dove c'è in tutto linea? allo studio ciao ragazzi hai perso dai iscriviti a carna dai tu iscriviti dai marimari 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 ciao tu iscriviti i aspett ciao 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 ciao